IMR è un gruppo che produce parti in plastica sia per auto molto esclusive che per veicoli industriali. Con una struttura fortemente verticalizzata gestisce in proprio tutte le fasi di produzione. Ma qual è l'idea industriale alla base? L'idea vincente della IMR è stata quella di saper coniugare alcuni processi produttivi fortemente automatizzati, unendo a questo la capacità di personalizzare i nostri prodotti sulla singola vettura del cliente finale. IMR associa impianti industriali complessi con un'elasticità da piccoli artigiani sincronizzandosi con i tempi dei committenti. L'utilizzo di tecnologie produttive altamente automatizzate e quindi competitive con la capacità di personalizzare molto il nostro prodotto. Abbiamo creato dei centri di logistica avanzata vicino ai nostri clienti per poter consegnare i nostri componenti secondo la sequenza di montaggio della vettura stessa. IMR ha così integrato l'automatizzazione di impianti industriali importanti con la flessibilità della personalizzazione pezzo per pezzo che gli viene richiesta, fino a integrarsi attraverso la logistica avanzata con i tempi di produzione dei suoi clienti.